Siamo l'unica vera novità del panorama politico italiano, così i leader abruzzesi del terzo polo Camillo D'Alessandro, Italia Viva e Giulio Cesare Sottanelli Azione, alla presentazione, sotto il segno di Draghi, degli uomini e delle donne che hanno accettato di candidarsi con il terzo polo di Calenda in Abruzzo. Da un lato a sinistra sono esplosi con i 5 Stelle, dall'altro a destra la trazione sovranista di Meloni racconterà una nazione isolata nel mondo. C'è la possibilità di rompere questo schema destra-sinistra perché c'è un'altra Italia che è l'Italia di Draghi. Ogni voto dato a noi è un'Italia che riporta Draghi vicino alla guida del paese. C'è un'Italia silenziosa che non accetta quello che sta accadendo, come si sono formate le liste. Dove sono stati catapultati 4 candidati da fuori regione in posizioni tutti elegibili, quindi all'Abruzzo è stata tolta una rappresentanza importante. Quindi noi come terzo polo abbiamo dei candidati con un cursus honorum di grande qualità che certamente possono rappresentare al meglio l'Abruzzo e certamente saremo la grande novità di queste elezioni. Alla Camera Gaetano Luigi Furlano all'uninominale di Chieti, Roberta Quercia Pescara Teramo ed Emanuela Pistoia in L'Aquila Teramo. Per il plurinominale con Giulio Cesare Sottanelli, Roberta De Laguzzo, Riccardo Giampiero e Massimina Erasmi. All'uninominale Senato l'ex presidente di TUA Gianfranco Giugliante in lista con D'Alessandro, Nausicaa Cameli e Alfredo Chiantini. Abbiamo un programma concreto, un programma definito, un programma che in maniera pragmatica non sono slogan, ma il programma contiene le azioni e le risorse per andare a raggiungere quegli obiettivi che sono fissati all'interno del programma. Quali sono gli obiettivi? Cosa vi aspettate dall'elettorato abruzzese? Io credo ben oltre il 10%, questa è la sfida, se riuscissimo a raggiungere queste cifre io credo che riusciremo ad eleggere sia la Camera che il Senato.